Equilibri mondiali. Beppe Grillo da Bruxelles sottolinea le analogie fra Trump e i 5 Stelle. Anche il suo è stato un Waffa pazzesco. Un po' quello che il percorso mi ha fatto noi, con i media sempre in ritardo. Scoprono dopo che uno vince, ma come ha fatto? È la stessa cosa che abbiamo avuto noi, quando siamo nati e ci siamo materializzati col Waffa in tutte le piazze d'Italia, dal web. Tutti i media hanno detto, ma dove sono usciti questi vicini? Grazie.